E vogliamo andare nell'Evangelo di Marco, capitolo 6? Verso 14, grazie a Dio perché vi siete alzati in piedi. Il re Erode udì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato ben conosciuto. E alcuni dicevano, Giovanni il Battista è risuscitato dai morti, è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano, è Elia. E altri? È un profeta come quelli di una volta. Stasera voglio parlarvi intorno a quelli di una volta. È un profeta come quelli di una volta. Ma Erode udito ciò, diceva Giovanni che io ho fatto decapitare, lui è risuscitato. Qualche versetto prima, il versetto 12, il versetto 13, dice la parola di Dio. E partiti predicavano alla gente di ravvedersi, scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Alleluia. Signore vi benedica, state comodi. È un profeta come quelli di una volta. Ai tempi di Gesù. Questi uomini parlavano commentando quello che vedevano accadere intorno a loro e usavano l'espressione che non è nuova per noi. Ok? È vero? Magari noi le usiamo per cose molto più banali. Un pane di una volta. È vero o no? Il pane di una volta era più buono. I ragazzi, vedi i ragazzi, i giovani di questi tempi, quelli di una volta, e i miei tempi. Non c'erano tutte queste sofisticherie, non c'erano tutti questi grilli per la testa. È vero o no? Le abbiamo dette queste parole? Le abbiamo dette. Che una volta le dicevate voi, adesso le dico anch'io. Troviamo un piacere, per certi aspetti, nel guardare indietro. Non sempre guardare indietro è negativo. Viviamo momenti, veramente, cioè riviviamo certi momenti. E pensando, per esempio, a me piace pensare al giorno in cui ho ricevuto lo Spirito Santo. Mi rivedo ancora con quella magliettina e che, parlando in altre lingue, mi abbraccio il pastore per il collo. Felice. Perché finalmente dopo tre passamesi di venire all'altare, pregare, a squarciagola, senza stancarmi, finalmente, finalmente era successo quello che è l'esperienza più bella della vita. A me. E poi le cose belle che abbiamo vissuto, le conferenze, i servizi speciali, le serate a piangere, a pregare, i miracoli che abbiamo visto. E' bello ricordare i tempi di una volta. Noi parliamo del passato, parliamo dei tempi di una volta e lo facciamo molto spesso. Facendo riferimento alla parola di Dio, ancora oggi, noi parliamo, stamattina io ho citato Mosè, Ma quante volte, durante la settimana, sentendo la parola di Dio predicare, parliamo ancora di Mosè, parliamo di Giuseppe, parliamo di Davide, parliamo di Elia, parliamo di Eliseo. Alleluia. E parlando delle loro storie, noi ci medesimiamo, riviviamo quelle cose della parola di Dio. Ricordiamo sermoni che ci sono stati predicati. A me. Alleluia. C'è sicuramente qualcosa di buono nella una volta. Alleluia. La cosa che mi ha colpito però è stata leggendo questo riferimento è che la gente dei tempi di Gesù, vedendo all'opera Gesù, usa questa espressione. Perché chissà perché, nella mia mente, è come se loro non avessero il diritto, o non avessero avuto il diritto di poter dire quelli di una volta. Perché nella mia mente loro stavano vivendo, stavano vivendo la parola di Dio. Ma pensate, questa gente, duemila anni fa, si guardava indietro e dicava Ma questo uomo qua è come i profeti di una volta. Alleluia. Quindi, vedendo Gesù all'opera, loro stavano rivivendo quello che, in un certo senso, noi riviviamo quando condividiamo la parola, no? E quando leggiamo e predichiamo intorno a Davide che abbatte il gigante, intorno a Mosè che, con l'aiuto del Signore, vede il mare aprirsi davanti a sé, vedendo Gesù all'opera, qualcuno di loro diceva è uno dei profeti, come i profeti dei tempi antichi. Ma che cos'è? Che faceva sì che loro individuassero in Gesù qualcuno che agiva come i profeti del passato, come i profeti della Bibbia, come Isaia, come Elia, come Eliseo, come i grandi profeti, come Mosè. Che cos'è? Che cos'è che li portava a dire queste parole? Quello popolo là era un popolo che conosceva la parola di Dio. A loro non mancava la parola di Dio. Erano abituati ogni sabato a riunirsi in sinagoga, a leggere la parola, a condividerla, a cantare l'odi a Dio, a ricordarsi, a ricordare al mondo intero, al loro mondo purtroppo, non al mondo intero. Ascolta Israele, il Signore è uno, e uno è il suo nome. Alleluia. Shema Israele, Adonai Eloenu, Adonai Echad. Alleluia. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Alleluia. E conoscevano Mosè, la legge. Anche i più piccoli conoscevano la legge, perché venivano introdotti alla parola di Dio nella loro tenera età. E a 13 anni i maschietti diventavano maggiorenni. A 13 anni facevano il loro, si chiama ancora oggi, Bar Mitzvah. Da quel momento in poi, il papà non è più responsabile per loro, davanti a Dio. Sono loro che sono responsabili per le loro azioni davanti a Dio. Quindi questa gente conosceva il Signore. Cos'era che faceva sì che ascoltavano i rabbini e magari li ascoltavano con piacere, però quando sentivano parlare Gesù, che diceva la parola di Dio, anche i rabbini parlavano della parola di Dio, ma Gesù pronunciava la parola di Dio e dicevano lui è come uno dei profeti del passato. Cos'è? Non era la conoscenza della parola di Dio, perché la conoscevano i rabbini la parola di Dio. gli standard di santità! Alleluia! Questi uomini avevano standard di santità, hanno standard di santità, di cui quegli praticanti ovviamente, quelli fedeli, e a confronto la nostra predicazione della santità impallidisce. Sapete cosa succede una settimana prima dell'inizio della festa di Pasqua in una festa, in una casa di un ebreo praticante? si ribalta la casa interamente alla ricerca della farina o del grano. E tutto quello che ha a che fare con la farina e con il grano deve scomparire dalla casa per almeno quella settimana, la settimana degli azimi. Prendiamo i biscotti, prendiamo la pasta, la tiriamo via. Biscotti e pasta, farina. solo quello. Se c'è un insaccato ovviamente non di maiale, il cui budello è stato immerso nella farina, quello non può stare a casa. Se ci sono medicinali tra i cui componenti ci sono elementi riconducibili nella farina, no, no, non può stare a casa. Glorie a Dio. avevano standard e hanno mangiare. Vogliamo parlare un pochettino del cibo kosher, del cibo appropriato? Meglio che ne ne parliamo. e intanto sorella Cediacono loro prendono Mosè e dicono secondo Mosè questo sì, questo no, questo no, questo sì, questo sì, questo no, questo no, questo sì. E non è che potete mangiare il formaggio con la carne insieme. È un grande peccato perché nella parola di Dio era stato scritto, era stato detto di non cuocere l'agnello nel latte della mamma. Eh? Quindi avevano un rispetto dei loro standard tra virgolette di santità che fa farrabrividire, farrabrividire. Avevano la parola, avevano gli standard di santità, però la gente li sentiva parlare, apprendeva da loro, vedevano la loro tra virgolette serietà nel fare le cose di Dio, ma non riuscivano a dire di loro come dicevano di Gesù questo è come uno dei profeti dei tempi antichi. Alleluia. Perché? Io so per esperienza personale oltre che per insegnamento della parola di Dio che senza la santità non c'è autorità, senza la santità non c'è potenza, senza la santità la presenza di Dio fratelli miei è difficile averla. Alleluia. Intanto però Gesù se si è arrabbiato con qualcuno nella scrittura vi ricordate con chi si è arrabbiato Gesù? Sapete che Gesù si è arrabbiato vero? No, ecco questa è una cosa su cui potrei essere frainteso. secondo voi Gesù si è mai arrabbiato o no? Ok, tutti quelli che non siete d'accordo potete lapidarmi ma secondo me Gesù nella parola di Dio si è arrabbiato si è arrabbiato con i mercanti nel tempio con Pietro si lo chiama Satana si è arrabbiato con i suoi tra virgolette arrabbiato con i suoi rimproverò i suoi per la loro durezza di cuore e incredulità e si è arrabbiato con i farisei forse che i farisei avevano una dottrina che dal punto di vista di standard faceva paura per quanto rigida era e a loro dice per sette volte sette volte guai a voi scrivi a farisei ipocriti perché per questo 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 e quest'altro quante volte avete visto Gesù arrabbiarsi con un peccatore neanche una volta fa pensare vero fa pensare stasera stasera sto cercando di fare una trinità sermonologica io non credo nella trinità ma sto cercando di mettere tre sermoni in uno alleluia ritornando alla alle cose del passato ci sono cose belle da ricordare nel passato e da rivivere ma ci sono anche cose del passato che possono letteralmente schiacciarti e ucciderti se non le lasci se non le porti davanti a Dio c'era il popolo che ricordava le grandi cose di Dio e diceva quest'uomo è come uno dei profeti del passato ma c'era Erode che era letteralmente logorato dal suo rimorso dalla sua coscienza perché nel suo passato non c'era la parola di Dio nel suo passato c'era la coscienza macchiata a causa della condanna a morte di Giovanni il Battista le cose del passato possono aiutarci ma possono anche distruggerci se quello che il passato ci ricorda è la nostra anima macchiata beh abbiamo bisogno di confessare il nostro peccato a Dio perché altrimenti quel passato ci schiaccerà ci distruggerà alleluia e allo stesso tempo però è bello ricordare le cose del passato è bello ricordare la parola di Dio è bello ricordare i miracoli del vecchio testamento i miracoli del nuovo testamento ma non si può pensare di vivere nel passato non si può pensare di vivere di nostalgia alleluia e diventa pericoloso alleluia gloria al nome del Signore Gesù e era la sera della prima Pasqua dell'era cristiana la prima domenica dell'era cristiana la parola di Dio dice che c'erano degli uomini che per tre anni circa tre anni qualcosa forse avevano camminato con Gesù e avevano visto cose incredibili avevano visto l'acqua cambiata in vino avevano visto i panni moltiplicati i pesci moltiplicati avevano visto i lebrosi essere guariti avevano visto i ciechi recuperare la vista avevano visto i sordi ritornare a sentire avevano visto i morti risuscitare alleluia avevano avuto esperienze incredibili in quei tre anni ma quella sera sono chiusi in una stanzetta impauriti tremanti pensando che da un momento all'altro qualcuno possa bussare alla loro porta per dire voi eravate con lui dovete seguirci dovete venire con noi alleluia e mentre loro sono là nella loro paura e allo stesso tempo nei loro dubbi nella loro nostalgia perché il maestro adesso non è più con loro mentre sono là arriva Gesù e li saluta Shalom Alechem sulla giacalone ripetizione Shalom Alechem dicevo ai fratelli a Milano ma l'ho detto sei, sette mesi fa a Verona non è un semplice saluto Gesù si presenta allora e dice la pace sia con voi dice la nostra la nostra traduzione in realtà la traduzione originale è corretta è la pace sia su di voi e questa espressione Gesù in quel capitolo la ripete tre volte ora se io mi presento a casa di qualcuno per la prima volta è naturale pensare che se dico la pace sia su di voi li sto salutando ma nello stesso avvenimento nella stessa sera glielo dice due volte la pace sia su di voi quindi non li sta salutando sta cercando di dare un messaggio più profondo l'importanza di un saluto c'è gente che non si parla più perché ha ricevuto una scortesia di un saluto a volte capita di dover dirimere questioni che per sciocchezze diventano delle montagne incredibili cioè lei non mi ha salutato lui mi ha ignorato lei ha fatto questo lui ha fatto quell'altro ebbene possiamo metterci una pietra sopra e no perché così e no perché colà e uno dice ma Dio mio ma com'è possibile che si creino determinate cose per cose che agli occhi magari di un altro sembrano futili ma quello che non è stato salutato è la ricevuta come la più grande scortesia della sua vita e Gesù quella sera si presenta a loro e nella loro paura dice per due volte la pace sia su di voi alleluia vi sto stancando posso posso continuare per un po' in realtà non dice la pace sia su di voi ma dice shalom alechem perché shalom noi pensiamo che significhi semplicemente pace però non è così shalom è uno dei termini ebraici più difficili da tradurre perché quando noi pensiamo alla pace pensiamo molto spesso a quella condizione di chi beatamente può stare sotto un albero in una giornata soleggiata a godersi magari una bevanda fresca ah sto godendo di pace non è questo che significa e non è neanche il semplice saluto shalom viene da una radice che significa sii completo sii sano sii integro sii salvato con la radice di shalom si usano e si creano dei verbi per cui si che si usano nell'ambito del commercio per dire i debiti sono pagati i debiti sono pagati con la stessa parola si esprime il concetto di riconciliazione pace fratello c'è molto di più c'è molto di più alleluia la pace sia su di voi come su di voi alleluia come lo spirito che e quel giorno quando non c'era niente quando non c'era ancora il sole non c'erano le stelle si muoveva sopra la faccia delle acque la pace sia shalom sia su di voi in quel modo alleluia e Gesù con quel tra virgolette saluto gli sta dicendo non avete più bisogno di essere tristi non avete più bisogno di lasciarvi logorare dal dubbio dalla paura dall'incertezza ma io sono venuto perché voi finalmente siate completi sono venuto perché finalmente voi siate sappiate e capiate cosa vuol dire essere apposto con Dio e con gli uomini sappiate cosa vuol dire sapere che il vostro debito è stato pagato sappiate cosa vuol dire che io sono venuto per riconciliarvi alleluia sono venuto per mettere finalmente le cose a posto una volta per tutte alleluia non avete bisogno di stare qua a piangere non avete bisogno di stare qua a continuare a vivere nella nostalgia di ciò che è successo ieri io sono qua con la mia pace per voi alleluia grazie signore grazie signore grazie signore alleluia gloria al nome del signore di Gesù grazie signore alleluia ho lasciato qualcosa di appeso volutamente ci ritorneremo ma poi lui quella sera stessa cosa fa soffia su di loro vi ricordate e dice ricevete lo spirito santo e poi dice a chi avete rimesso i peccati saranno rimessi ciò che avrete legato sarà legato in cielo ciò che avete sciolto sarà sciolto in cielo alleluia e a prima vista può sembrare una cosa che significa quello che leggiamo ma in realtà la nostra mente dovrebbe andare ancora al giorno della creazione quando l'uomo fu creato cosa succede quando l'uomo fu creato la parola di Dio dice che il Signore gli soffiò nelle narici lo spirito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente e cosa diede Dio all'uomo Dio diede all'uomo autorità per chiamare gli animali per dare i nomi beh Gesù sta dicendo io sono venuto per fare in quell'occasione sta dicendo io sono venuto non qua qua da voi non perché continuate ad aver paura sono venuto per darvi la vera pace la mia pace e sono venuto perché voi siate nuove creature siate uomini nuovi alleluia uomini che sanno cosa vuol dire vivere per la potenza dello spirito uomini che sanno cosa vuol dire sperimentare la potenza del sangue dell'agnello per il perdono dei peccati alleluia e così come all'inizio diedi agli uomini l'autorità di dare i nomi adesso io do a voi l'autorità di rimettere i peccati di dire a tutti quanti gli uomini che c'è salvezza nel mio nome alleluia che le cose possono cambiare nel mio nome alleluia che non avete più bisogno di continuare a guardare dietro o a sperare indomani alleluia gloria al nome del signore gesù alleluia da questo punto di vista procacciate la pace con tutti la santificazione senza la quale nessuno vedrà il signore per me assume un'altra dimensione totalmente diversa rispetto a quella che avevo visto fino a poco tempo fa perché dicevo dio mio la pace è la santificazione però signore la pace io posso essere in pace con tutti ma il mondo può avercela con me e io cosa faccio mentre la pace che ci vuole dare dio non è semplicemente io sono a posto con il mio fratello la pace che ci vuole dare dio è che finalmente tutti quanti noi viviamo nell'esperienza dello spirito santo alleluia secondo gli studiosi del vecchio testamento si può avere la vera pace si può avere shalom nelle proprie vite solo quando lo spirito di dio riposa su di te alleluia questa è l'unica circostanza che ti permette di sperimentare al pieno cos'è shalom quindi Gesù non andò quella sera là per dire beh pace la pace si è su di no no Gesù lì sta facendo quello che Matteo ci riporta con la grande commissione Luca ci riporta dicendo era scritto che il Cristo soffrisse ecco questo è il modo di Giovanni di dirci quello che Gesù fece quella sera con tutti quanti loro alleluia e c'era uno che mancava quella sera vi ricordate come si chiama Tommaso il gemello Tommaso significa gemello Didimo significa gemello e per la concezione ebraica il gemello è segno di completezza un gemello era qualcosa che rappresentava la completezza essere completi e Tommaso aveva questo spirito lui si sentiva completo infatti quando gli dicono il maestro è risuscitato l'abbiamo visto io non sono mezza testa io sono completo se l'abbiamo visto appeso al legno della croce da lontano ma l'abbiamo visto perché io sono sicuro che da lontano osservavano da lontano l'abbiamo visto abbiamo visto che lo hanno sepolto ed era morto morto come fate a dirmi che il maestro è risuscitato perché perché mi volete fare questo male alleluia una settimana dopo Gesù si presenta a colui che si riteneva completo e Tommaso non era stupido Tommaso ragionava come avrei ragionato io come se siete onesti potremmo dire avremmo ragionato noi però lui pensava di essere completo pensava che il suo cervello funzionava e quello degli altri era un cervello dei creduloni e Gesù si presenta ancora una volta e usa ancora quella frase la pace sia shalom sia su di voi shalom credulo ma credente in altre parole Tommaso non pensare di poter fare con la tua conoscenza non pensare di poter fare con le tue capacità non pensare di poter fare con la tua comprensione la tua capacità di applicazione della Bibbia alleluia c'è qualcosa di più ti serve qualcosa di più alleluia ti serve qualcosa di più devi credere che io sono colui che ti completa e Tommaso la parola di Dio dice che in quel momento dice Signore mio e Dio mio citando non erano parole originali di Tommaso Tommaso sta citando un salmo nel quale il salmista nella sua disperazione nel suo bisogno di aiuto grida a Dio e dice Signore mio e Dio mio in altre parole lì Tommaso sta riconoscendo il suo bisogno di Gesù e sta dicendo tu sei il mio tu sei quello là Davide ha detto quelle parole io le dico a te perché riconosco in te quel Signore quel mio Dio che è presso di me alleluia gloria al nome del Signore Gesù gloria al nome di Gesù alleluia gloria al nome di Gesù alleluia alleluia gloria al nome di Gesù alleluia alleluia vedete confini antichi e il solo titolo di questo incontro fa pensare è stato a lungo pensato certo non ho dubbi che sia stato a lungo pensato e lo scopo è quello di ricordarci che quello che è stato posto non deve essere rimosso a me non deve essere rimosso alleluia c'è però il pericolo di ridurre ciò che è stato posto a livello a cui lo avevano ridotto i farisei alleluia amè abbiamo due grandi pericoli da combattere due grandi nemici da combattere uno è il gradualismo la tendenza pian pianino pian pianino a scivolare in quelle pratiche che sono sempre più scimmiottamenti del mondo per cui la chiesa pian pianino si trasforma in un'occasione di svago di rilassamento di è un momento di incoraggiamento e voi vedete gente che dovrebbe avere i capelli come ce li abbiamo noi cioè colorati dal tempo ingrigiti bianchi e argento sono tutti completamente con delle cofane in testa di color porpora di color seppia e mi capita di ascoltare qualche cantico evangelico su youtube e ci sono proprio i video di queste chiese che tu li guardi vedi le rughe che solcano i loro i loro i loro visi perché il tempo passa fratelli miei cioè io posso dire 30 anni fa e non c'è modo che io non possa più dire 30 anni fa a meno che non stacco la spina o il signore mi spegne io andando avanti dirò 40 anni fa anzi già lo posso dire 40 anni fa posso dire fino a 45 anni 46 anni fa 47 ancora no tra poco e tu vedi questi che con le facce solcate dal tempo che passa cercano di combattere il tempo e e sono stranamente colorati stranamente gonfi in faccia e alzano le mani dicendo alleluia ti amo Gesù e tu senti vedi che quello che stanno dicendo quello che stanno cantando è vuoto è vuoto non tocca non tocca nessuno sembra quasi che stiano nominando il nome di Dio in vano alleluia questo è l'effetto del gradualismo e allora poi senti di cantanti che per cantare la gloria di Dio vogliono almeno un cachet di 5.000 euro perché altrimenti non cantano cantanti evangelici che organizzano i loro spettacoli e vanno là per promuovere le loro nuove canzoni predicatori che vanno a predicare solo se vi viene garantito un'offerta di 3, 4, 5 6, 7 mila dollari perché altrimenti non si spostano neanche dalle loro dalle loro case perché hanno un'agenda così piena perché si sono fatti un nome la parola di Dio dice che Gesù si era fatto un nome ma non per aver scimmiottato il mondo alleluia e si fanno le gare di questo le gare di quell'altro come il mondo come il mondo qualche settimana fa ricevo una telefonata di un giornalista del Corriere mi fa mi scusi se la disturbo ma lei è il pastore della chiesa pentecostale di Verona quella di via Sant'Antonio di così sono io non è che per caso non mi ricordo chi era quelli che hanno vinto X Factor frequentano la sua chiesa dico guardi mi dispiace la mia chiesa la chiesa di cui sono pastore è una chiesa molto piccola e poi che cos'è questo X Factor non so neanche scusi la mia ignoranza ma non ma non certo ovviamente oggi so che cos'è X Factor però vedete questi qua non so neanche come si chiamano perché non ricordo il nome che era un gruppo di Verona e si sono presentati a questa manifestazione e hanno dichiarato che loro hanno cominciato a cantare in una chiesa pentecostale quello pensava che fosse la nostra chiesa io guardi non è così e non mi dispiace che non dico alleluia a me gradualismo la chiesa deve stare lontana da queste cose alleluia noi vogliamo servire Dio nello spirito e nella verità alleluia alleluia vogliamo servirlo nello spirito e nella verità alleluia nello spirito e nella verità alleluia nello spirito e nella verità ma allo stesso tempo allo stesso tempo non vogliamo correre il rischio di arrivare che sapete il gradualismo porta alla morte irrimediabilmente ma non vogliamo correre il rischio di arrivare a fare come i farisei che sono partiti bene con l'intenzione di onorare Dio però sono arrivati al punto scavando nella parola di Dio con le loro menti hanno tirato fuori quella che è l'idea di costruire la siepe intorno alla Torah alla parola di Dio hanno aggiunto tutti i loro pensieri tutte le loro lucubrazioni intorno alla parola per cui vedete sono arrivati al punto che prima della Pasqua controllano che non abbiano medicinali a casa che per idea possano aver toccato il grano secondo voi è questo quello che Dio chiedeva a loro? no no e io non mi sento di criticare questo tipo di attitudine perché in un certo senso nasconde o nasconde più che nasconde racchiude un certo desiderio di voler eccellere al cospetto di Dio cioè io voglio essere così attento nelle cose di Dio che se c'è qualcosa che posso fare per essere nella piena volontà di Dio quella io voglio farla quindi il sentimento non è cattivo chi ha detto a me? fammi vedere la tua mano a me il sentimento non è cattivo ma quello è diventato il fine di tutte le loro azioni alleluia e questo è pericoloso questo è pericoloso la Chiesa del Signore ha il grande privilegio e la grande responsabilità di vivere e di ricercare la pace e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore che non è fatta di semplici atti non è fatta di semplici atti alleluia voi decimate la menta il prezzemolo è questo è quell'altro siete così attenti a queste cose ma vi siete dimenticati cosa vuol dire la misericordia l'amore alleluia che cosa mancava mancava quello che noi abbiamo fratelli miei mancava lo Spirito Santo alleluia era un'applicazione di regole sante di regole giuste se volete ma era vuota non c'era lo Spirito c'erano gli standard di santità ma non c'era lo Spirito della santità alleluia la Chiesa non può fare a meno dello Spirito della santità e lo Spirito della santità farà sì che gli standard di santità siano percepiti per quello che realmente sono autorevolezza autorità con Dio separazione dal mondo alleluia saranno l'influenza qualcuno oggi si diceva la santità è il problema per la crescita della Chiesa è vero può diventarlo se la viviamo in un certo modo ma in realtà la santità dovrebbe essere il catalizzatore per la crescita della Chiesa alleluia e non il contrario solo però solo ed esclusivamente se noi viviamo la realtà e la verità della parola di Dio nello Spirito della santità perché perché se lo viviamo alla maniera dei farisei gli altri vedranno in noi qualcosa di odioso alleluia grazie signora grazie signora grazie signora alleluia 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 pastore sono le sei ecco mi chiama dice hai finito il tuo tempo ho solo pochi pochi grazie solo pochi minuti ancora alleluia qui la questione non è beh ci sono troppe regole se se si continua a pensare ai confini antichi come a delle regole e si vive per le regole in quanto regole noi diventeremo le persone più odiose di questo mondo alleluia non so se l'ho avuto modo di condividerlo con voi ma se se l'ho già fatto perdonatemi per la ripetizione abbiamo finito il primo anno con il nostro insegnante di ebraico io e Nicoletta e abbiamo chiuso l'anno con una pizza eravamo sei sette otto persone forse quelle che eravamo non tantissimi la classe è piccolissima alla fine questo ragazzo insegnante di ebraico ragazzo simpaticissimo codino che gli arriva qua mi fa dice angelo ti posso chiedere in che cosa credi mi faccio elli se ti dico in che cosa credo tu prendi le pietre e mi lapidi l'ho detto un po' mi ho dibattuto no no seriamente dimmi in che cosa credi e gli ho cercato in poche parole di spiegare che per me Gesù Cristo non è un profeta ma per me Gesù Cristo è Dio manifestato in carne che non credo nella Trinità ma credo come Lui credo nell'unico e solo vero Dio un Dio e un nome il particolare di cui è che per me quel Dio e quel nome si sono manifestati in Gesù Cristo lui è Dio incarnato e non ce ne sono altri c'è un solo Dio quindi come tu dici ascolta Israele il Signore è nostro Dio e il Signore è uno io dico come te ascolta Israele il Signore è nostro Dio e il Signore è uno e si è rivelato l'umanità in Gesù Cristo alleluia alleluia questa è la nostra fede non è nostra è la verità di Dio alleluia questa è la pace di Dio questa è la pienezza di Dio alleluia shalom è uno dei nomi di Dio shalom significa che Dio è la nostra completezza dove vi porta la mente state attenti a non essere presi dalle filosofie dal vano inganno delle storie delle teorie di questo mondo perché in Lui abita corporamente tutta la pienezza della Deità e noi siamo completi in Lui alleluia in Gesù noi siamo completi alleluia gloria al nome del Signore ascolta Chiesa uno è il nostro Dio e uno è il suo nome alleluia alleluia gloria al nome del Signore Gesù alleluia lui è lo stesso ieri e oggi è in eterno alleluia gloria al nome del Signore alleluia 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 gloria al nome di Gesù ancora qualche minuto alleluia alleluia mi guarda e mi fa e dice ci può stare perché se Dio è onnipotente quello che dici tu può essere dico ti ringrazio ma in ogni caso in ogni caso per me era così e poi gli ho fatto la domanda e dico scusami è per te Gesù che cos'è si ferma un attimo e mi dice per me Gesù è stato un grande rabbi non un rabbi qualsiasi sai da noi si dice due rabbini tre sinagoghe perché due rabbini tre sinagoghe perché gli ebrei molto spesso quando discutono non sono d'accordo neanche con loro stessi però hanno un grande pregio nel loro Talmud voi leggete l'opinione di un rabbino e per loro il Talmud ha lo stesso valore della Bibbia c'è la legge orale e la legge scritta per noi la tradizione questa è la tradizione il Talmud è la tradizione per noi la tradizione ha valore di tradizione l'unica legge è la parola di Dio ispirata da Dio e basta per me è stato un grande rabbi e la cosa che mi ha colpito di più è che lui ha detto è stato un grande semplificatore Gesù un grande semplificatore non possono accendere non possono accendere la luce di sabato sapete non possono accendere la luce loro il venerdì sera accendono le candele ora mi butta mi dà le battute però dice adesso ci sono i temporizzatori quindi dice quando abbiamo bisogno della luce impostiamo il venerdì così alle sette di sera abbiamo la luce accesa senza che noi capite a dove si può arrivare ma perché lo scopo è sincero lo scopo è buono però è diventato il fine non c'è lo spirito santo in questo e se non c'è lo spirito santo diventa qualcosa di assurdo ma se c'è lo spirito santo sentivano parlare Gesù dice no no lui non è come Rabbi Iosef Ben Levi lui lui dice io dico ed è così Rabbi Iosef Ben Levi non può dire io dico è così Rabbi Iosef Ben Levi dice lui ha detto sul nome di Natani sul nome di questo e di quell'altro che è così no no Gesù diceva io vi dico in verità in verità io vi dico ed è così alleluia ed è così alleluia lo spirito santo è l'unica nostra ancora è l'unica nostra fonte di salvezza è l'unica nostra fonte di vita noi serviamo Gesù che è lo stesso ieri oggi e in eterno alleluia quello che era vero ieri è ancora vero oggi alleluia e sarà vero domani perché il nostro Dio non cambia alleluia la santità di Dio non cambia possono cambiare i tempi ma i principi non cambiano ciò che era sbagliato ieri è sbagliato oggi e sarà sbagliato domani domani magari le donne non avranno più le gonne avranno i lenzuoli non lo so e gli uomini avranno non lo so come saranno i vestiti fra cento anni se il Signore non sarà non sarà ritornato però il principio a prescindere dalla forma è sempre quello la donna deve essere donna l'uomo deve essere uomo alleluia l'immoralità sarà sempre immoralità non è importanza che il mondo cambi alleluia il matrimonio tra due persone dello stesso sesso sarà sempre contro natura sarà sempre contro la parola di Dio non è importanza se non ci saranno più le televisioni da qui a dieci anni il principio non metterò niente di malvagio davanti ai miei occhi vale col televisore vale con le riviste vale con il computer vale col cartellone pubblicitario è quello che non cambia alleluia perché il mio Dio è uno alleluia lui ha fatto le cose bene quando noi cerchiamo di aggiungere a quello che lui ha fatto di togliere quello che lui ha fatto facciamo disastri ma se viviamo la nostra fede nello spirito della santità lo spirito della santità alleluia pensavo pensavo di aver poco da dire no no mi fermo continuo alleluia nello spirito della santità alleluia nello spirito della santità ci accorgiamo di veramente di cosa lui veramente vuole per noi alleluia nell'evangelo di giovanni gesù usa poche volte l'espressione al passato e lo stesso è lo stesso che lui chiude dicendo la pace sia su di voi e nell'evangelo di giovanni lui è io sono avanti che abramo fosse nato io sono alleluia a maria dice io sono la resurrezione e la vita alleluia questa bellezza dello spirito di santità questo è lo spirito di santità romani in romani capitolo 1 l'apostolo paolo dice che è stata per la potenza e per lo spirito di santità che lui è ritornato dai morti alleluia come faccio io a vivere questo aspetto della santità beh a tutti capita di ammalarsi però quando un cristiano è all'ospedale perché magari sta combattendo il cancro ed è pieno di paura dentro di sé perché non è una cosa da niente combattere il cancro però se tu sei nello spirito se tu sei sotto quello spirito sì è vero il mio corpo sta soffrendo però sai amico sai amica io ho conosciuto il signore che mi ha detto che lui è la resurrezione e la vita quindi poco importa quello che succederà a questa carne alleluia lo spirito ti dà la forza di testimoniare la santità di Dio alleluia la potenza della resurrezione è santità alleluia e santità io sono il pane della vita voi mi chiamate maestro e dite bene perché io sono il maestro io sono la luce del mondo alleluia io sono io sono io sono alleluia io sono il buon pastore io sono la via la verità la vita alleluia io sono la vera vita vedete lui non è uno di quelli del tempo passato ma lui è venuto con lo stesso spirito di santità che operava nei profeti anzi lui è lo spirito di santità alleluia e chi lo ha visto lo ha riconosciuto alleluia e non è rimasto inerme davanti a lui non è non sono non sono non hanno potuto restare indifferenti scusate la costruzione strana ma non sono potuti restare indifferenti davanti a lui perché lui è lo spirito di santità alleluia era la costanza alleluia lui non parla della legge lui è la legge alleluia lui vive la bellezza della legge lui vive la bellezza del comandamento lui vive la bellezza della santità davanti a lui vicino a lui tu senti che lui è separato lui è qualcosa che non appartiene a questo mondo alleluia lo spirito santo ce l'ha dato perché noi viviamo questa stessa situazione alleluia questa stessa situazione il pastore i pastori non dovrebbero essere mai non dovrebbero mai essere costretti a predicare a insegnare intorno alla lunghezza delle gonne e a tubo e a campano sto citando ricordando le parole di mia madre che da volte parlava di gonne dicevo ci sono gonne a campana gonne a tubo gonne a retta io non so che cosa significa tubo campana a retta non lo so e non mi interessa saperlo però so una cosa che la parola di Dio dice a uomini e a donne che siamo chiamati a rispettare il principio della modestia della purezza della castità della vere condia alleluia questo basta alleluia il pastore non dovrebbe ricordarci che una gonna per essere modesta deve coprire le ginocchia sorelle sapete che quando Dio vi ha creato vi ha creato per essere un aiuto contro vostro marito mamma mia alleluia a me mamma mia stai attento tu quando ti sposerai perché il testo originale dice così Dio fesce un aiuto viene tradotto convenevole ma c'è scritto un aiuto contro e mi sono chiesto molte volte che cosa vuol dire un aiuto contro e non ho parlato con la sorella forse anche con te ne parlavamo quando siamo stati insieme io ho visto nella mia esperienza da marito che a volte noi uomini ragioniamo in maniera strana fratelli io me lo riconosco se voi non volete riconoscerlo fate come volete a volte non sempre a volte e allora il signore ci ha dato per contrappeso la moglie che a volte ci dice ma che stai facendo ma calmati rifletti fai prima di aprire la bocca conta fino a cento respira forte alleluia un aiuto contro le nostre sorelle non dovrebbero vivere sto andando però troppo orta mi fermo mi fermo subito cioè uomini e donne non dovremmo vivere la santità lo spirito della santità mai come un peso io no io no a me non piacciono i cristiani che si lamentano di questa cosa così grande così bella così gloriosa vivi vivi come vuoi se non sei disposto ma se vuoi vivere lo spirito della santità vivila nello spirito della santità alleluia vivila nello spirito della santità alleluia grazie a tutti Grazie.